Per quello che riguarda il tema del Sindaco di Roma, guardi, ho risposto cento volte a questa domanda. A me pare che un po' tutti quelli che vogliono levare dalle scatole mi propongano come il Sindaco di Roma, no? Cioè, ma sta Meloni, no? Sul piano nazionale. Ma perché non fai il Sindaco di Roma? Cioè, alla fine, se lei mette insieme tutti quelli che me lo chiedono, sono tutte persone alle quali io non sono simpaticissima, mettiamola così. Dopodiché, io lo farei volentieri il Sindaco di Roma, Pirosso, mi sono anche già candidata, lei lo ricorderà, mi candidà incinta al settimo mese di gravidanza e le cose non andarono bene, nel senso che fu scelta Virginia Raggi, come ricordiamo. È una cosa che non escludo di fare nella mia vita, io sono innamorata della mia città, però io mi sono oggi presa un impegno con molti milioni di italiani che vivono anche fuori dal raccordo anulare. E credo di dovere qualcosa anche a quelle persone che credono in me, che credono in Fratelli d'Italia. E penso anche che il problema della capitale non sia semplicemente quello, non sia solo quello di avere un Sindaco capace, che in ogni caso, spero avrà, è una cosa sulla quale sto lavorando personalmente da mesi, ma sia anche il problema di avere leader nazionali che abbiano a cuore il destino della capitale.